la prima eliminazione sarà dunque doppia tutte le atleti che corregono il via, anzi hanno già preso il via la prima eliminazione sarà doppia ah si a bailo, davanti, qui c'è un'altra protagonista che ama frequentare le posizioni di testa Elisa Folli, vediamo com'enterà questa batteria abbiamo visto che l'è interpretata in modo molto inequivocabile diciamo, ma in a raga, la precedente sempre bailo davanti ora la campana di meno 7, dal prossimo giro elimina l'esercizio come se l'abbiamo di qua, mi dicono che non facciano illuminare niente così andiamo ora la campana di meno 7, dal prossimo giro eliminazioni provo a chiamarlo perché non l'hai trovato? no, non l'ho visto allora la non c'è, venire giù non c'è un rappresentante della Benzana Siena alla postazione dei sanitari un rappresentante della Benzana Siena dai sanitari, grazie ora sarà una eliminazione doppia quindi le ultime due atlete che passavano sotto al guano che erano eliminate Asia, Asia eliminazione, doppia eliminazione ne doppia contiamo sul fattore strada umbe 163 163 e 323 3 2 3 1 6 3 cima rosto e 323 dingo vera e cristal per massi grazie vera cima rosto perfetta per la mia produccia pensate quando poi vince un titolo ilaria carriera per me è proprio perfetto da pronunciare molto divertente siamo alla eliminazione di meno 5 e singola eliminazione 395 395 nicole zamengo gruppo cosmonuale passaggio a meno 4 è altra eliminazione c'è un'altra eliminazione 290 prima munizione a detta nome o 290 asia 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 171 171 con ravini eliminata nel traguardo sul traguardo appena superato ultimi 2200 metri circa di questa 5000 ragazzi siamo alla settima e penultima batteria sono un Shum nick un giro l'eliminazione due staccate 316, 316, continetto polisportiva casia l'atleta numero 155 della sesta batteria ha perso il numero e può venirlo a ritirare alla postazione di coltroni che va a eliminazione meno due 298, 298 Margherita Marelli e siamo nell'ultima sezione del programma dedicato alle qualificazioni dopodiché finali comincieremo ad assegnare titoli comincieremo ad assegnare titoli passaggio K dell'ultimo giro mi dicevamo questa è la penultima batteria dopodiché titoli scusi ce ne è una staccata si, si, no, chiaro i ragazzi maschi ci sono certo, certo 290 290 eliminata mi faceva notare giustamente il giudice arbitro dottor Manfredini che si, la categoria ragazzi intendevo ancora una batteria di ragazze dopodiché si passerà ai ragazzi maschi categoria maschile e poi finali volata per il traguardo conclusivo di questa settima e penultima batteria 5.000 metri eliminazione l'avamo nominata prima a prendersi